E la regia è pronta di mandare appunto questo contributo al nostro pubblico di mattina live. Premo che rappresenta un segnale di fiducia e di speranza per tutti i cittadini e quindi è importante oggi essere qui, è bello vedere l'Ariston di nuovo con il pubblico e credo che questo sia merito dei tanti italiani che si sono vaccinati, che hanno compreso come la vaccinazione sia l'unico mezzo per uscire da questa pandemia e credo che dobbiamo proseguire su questa strada. Siamo all'inizio di una fase nuova ed è bello che questo inizio coincida con il Festival di Sanremo. Quali sono i prossimi obiettivi del Governo in termini di gestione della pandemia? Noi ovviamente dobbiamo guardare con attenzione quelli che sono i dati, fortunatamente da ormai un po' di giorni abbiamo dati positivi, ci auguriamo che possono ancora migliorare. Dobbiamo proseguire nella campagna di vaccinazione, dobbiamo completare la somministrazione del richiamo per coloro che non l'hanno ancora avuto, proseguire nella campagna di vaccinazione dei più giovani. Dopodiché io credo che già nel mese di febbraio inizieremo a allentare alcune misure restrittive perché credo che dopo due anni di sacrifici, dopo due anni di regole, dopo due anni di senso di responsabilità dobbiamo iniziare a dare dei messaggi positivi ai cittadini che hanno rispettato queste regole con grande senso di responsabilità. Grazie